La Giostra del Saracino, la nostra amatissima manifestazione che ha una sua storia, ha una sua origine e noi questa storia la vogliamo ripercorrere assieme proprio al consulente storico dell'istituzione Giostra del Saracino, Luca Berti, che ringraziamo ovviamente per la sua disponibilità. Non è soltanto consulente storico dell'istituzione, è anche presidente della società storica, so benissimo che è un collega stimato insomma, però adesso ecco lo, come dire, cogliamo appunto in questo suo ruolo come consulente storico dell'istituzione. Grazie a voi per l'invito e per l'ospitalità. Non potevamo appunto... A me fa sempre piacere parlare della Giostra del Saracino. Immagino, e lo si vede, questa cosa traspare assolutamente. Non potevamo appunto, come dire, raccontare noi la storia di questa manifestazione senza avere il contributo di Luca Berti proprio perché insomma non vogliamo assolutamente dare informazioni proprio non corrette su questa manifestazione che oggi è amata da tantissimi arettini. Allora, affondiamo proprio nelle radici, affondiamo il nostro discorso nelle radici di questa manifestazione. Lei ci ha portato dei documenti, tra l'altro molto molto interessanti. Intanto, non so se vogliamo partire proprio da una datazione storica, anche se forse ben precisa, non riusciamo, non lo so, mi sembra di capire... Ben precisa, abbiamo un documento certo in cui si parla della Giostra ad Buratum e quindi inequivocabilmente della Giostra del Saracino del 1535. Quindi da allora in avanti c'è sicuramente Giostra. Tra l'altro è una deliberazione comunale in cui si stanziano dei soldi per acquistare il palio che sarà premio di questa Giostra che si corre in onore di San Donato nell'anno 1535. Però la descrizione è così sintetica che non si può non pensare che la Giostra fosse conosciuta e che ce ne fossero state altre anche in precedenza ad Arezzo. Tanto più che la Giostra si faceva un po' ovunque, un po' dappertutto. Quindi non avrebbe senso pensare che l'unico posto dove non si faceva era a Arezzo. Anche se non abbiamo un documento certo in cui si parla di Giostra del Saracino ad Arezzo prima del 1535. Potrebbe essere sempre scoperto, saltar fuori da qualche archivio o da qualche scritto letterario. Abbiamo a volte preso a prestito anche i versi di Dante, insomma le parole di Dante per dire che appunto la Giostra doveva essere datata in quel periodo. Questo V di correr Giostra, ecco ci può dire un po' anche lì quanto c'è di... È una testimonianza autorevole ed importante che fu interpretata nel 1931 quando la Giostra come allora si disse fu riesumata come attestazione di una Giostra del Saracino. In realtà Dante si ferma la parola Giostra in quanto gioco visto ad Arezzo, però potrebbe essere stato anche un altro tipo di Giostra. Ecco, ci sono dei documenti, delle fotografie, delle cartoline anzi che lei ci ha portato in redazione che addirittura ci fanno vedere una Giostra dei primi del 1900, una del 1902 e una del 1904. E insomma c'è anche lì un moto proprio di appropriazione della Giostra del Saracino degli Aretini. Ci spiega perché? Sì, perché la Giostra si faceva dappertutto, però via via che passava il tempo in altri luoghi si smise di farlo. E a partire dalla fine del 1900, inizio del 1600, diventa una peculiarità aretina. Ecco. E ne abbiamo degli attestati sempre documentari, non sono supposizioni, direi di citarne due. Prego. All'inizio del 1600 la Corte Fiorentina chiede di organizzare in città una Giostra del Saracino per un dignitario, Luca di Urbino, che passa da Arezzo e di ritorno da Firenze. Già da questo si capisce che è qualcosa legato alla nostra città e non più ad altre. Alla fine, nella seconda metà del 1700, un impresario fiorentino che inaugurava un teatro, il Teatro degli Intrepidi, volendo dare risonanza all'evento, promuovere questo evento, invita a Firenze i giostratori aretini con tutte le spese del caso. Il treno non c'era, quindi carrozze, eccetera, per portare persone, per portare quant'altro. Quindi era qualcosa già molto, molto legato ad Arezzo. Lo diventa ancora di più nel 1900 con la giostra che ricordava lei del 1904, in occasione del centenario della nascita di Petrarca, quando si volle ribadire la aretinità della giostra. Perché un anno e mezzo prima era stata organizzata una giostra a Firenze nell'ambito del maggio fiorentino. 1902. Nel 1902, di cui abbiamo delle dimostrazioni. La giostra del 1904, per me, nel momento in cui si celebra Petrarca e in qualche modo se ne vuole ribadire la aretinità, forzando anche un po' la storia, bene, teniamoci quello che è nostro, cioè la nostra, la giostra, organizzandone una in quella circostanza per ribadire la aretinità del gioco, del torneo, che era diventata prettamente ed esclusivamente aretinità. al Prato, senza ovviamente ancora il monumento del Petrarca. Il monumento del Petrarca non c'era, c'era un affiteato dove si facevano le corse dei cavalli, per correrla furono fatti venire da Firenze, in questo caso i dragoni di Savoia, d'Arezzo non si correva più la giosta, da quasi un secolo, e anche il buratto probabilmente fu quello usato a Firenze. Ecco, parliamo del buratto, i primi documenti che diciamo fanno appunto vedere questa figura, che poi non solo il buratto ma anche proprio il cartellone che oggi invece usiamo noi per la giostra del Saracino, dov'è che lo vediamo per la prima volta? Qui abbiamo in questo caso una documentazione importantissima per la sua completezza, fu fatta una giostra nel 1677 nell'ambito dell'Accademia degli Oscuri, di cui un accademico ha lasciato un fedele resoconto con quelli che allora si chiamavano i capitoli e che poi hanno formato la base anche a partire dal 31 e ancora oggi del regolamento tecnico, c'è una riproduzione del buratto, rara tra l'altro in una pubblicazione secentesca a stampa, e del tabellone, anche il tabellone attuale è un'evoluzione di quello usato, quindi questo per ribadire quanto la giostra poi, a partire dal 5-600, si è legata alla nostra città. Veniamo ai giorni nostri, la giostra del Saracino rinasce, è questo il termine corretto, diciamo sotto il periodo fascista, possiamo dire così? Sì, nel 1931 la prima edizione, oggi siamo arrivati a, domani arriviamo a 133esima, la prima è del 1931. Ecco, la numerazione nasce in quel periodo lì? Nasce allora, sì. E i quartieri nascono in quel periodo lì? Tra il 1931 e il 1932, e questa è la grande innovazione, perché prima la giostra veniva corsa a titoli individuali, nel 600 dai nobili, nel 700, inizio 800 dagli artieri, gli artigiani, però sempre a titoli individuali, i quartieri non erano coinvolti nella giostra. È una innovazione di fondamentale importanza, perché in questo modo si coinvolge tutta la città. E l'altra innovazione fondamentale è lo spirito agonistico che viene inserito nella giostra, che è quello dello sport del 900, che porta i giri, i campionati, le Olimpiadi, dal fine 800, inizio del 900, questo sport di massa nasce allora e viene inserito nella giostra, che è il motore, a mio giudizio, il motore della giostra è l'agonismo. Centinaia di persone o migliaia di persone che lavorano, eccetera, eccetera, lavorano per vincere la lancia d'oro. Al di là poi della benemerita attività sociale che viene svolta, i circoli, l'aggregazione, anche giovanile, eccetera, eccetera, però per conto mio il motore della giostra è l'aspetto agonistico. Quindi sono queste due innovazioni fondamentali introdotte nel 31, che però non sono legate proprio al 31. Prego. Anche lì sappiamo che inizialmente erano cinque i quartieri. Sì, nella prima edizione dovevano essere sei, si parlava di sestieri, perché nascevano sul tessuto sociale della città. Poi a partire dalla seconda edizione, quella del 32, si ricorsa ai quartieri che erano la tradizionale divisione medievale di Arezzo. Innanzitutto io direi che c'è una continuità della giostra, cioè un prima nel periodo pre-fascista e c'è un dopo nel periodo post-fascista o addirittura antifascista. Il fatto che ci sia una giostra del 1904, che vede coinvolto Pier Ludovico Occhini, che era il podestà di Arezzo del 31, beh, insomma, la memoria della giostra c'era, non si inventa niente, anche se allora probabilmente volutamente si disse che la giostra si riesumava. Per accrescere il merito del regime, ma in realtà non c'era un cadavere, c'era una memoria ben presente, i protagonisti del 31 erano vivi e attivi, operanti anche 27 anni prima. E il fatto che dopo la caduta del fascismo, in epoca antifascista addirittura, la giostra non venga emarginata, non venga espulsa dal contesto, ma venga ripresa come evento di festa, gioioso di fine dell'incubo della guerra, del fine oppure nel corso della ricostruzione, dimostra che la giostra, chi era presente nel 1945, nel 1948, non la vive come un prodotto del fascismo, perché altrimenti la giostra sarebbe stata condannata a scomparire. Poi la venuta di Pertini, uno dei capi della Resistenza, che chiede di vedere la giostra in Piazza Grande, la sdogana definitivamente, però tutto sommato per me la giostra non ne aveva bisogno. Ci rimane qualche incrostazione, soprattutto, non tutte le persone sono uguali nel vivere un evento che pesa questa eredità, però questa eredità non è... La giostra ha radici più lontane, ma anche come giostra contemporanea, ha radici nell'Ottocento, nel romanticismo, nella rivalutazione del Medioevo, che l'illuminismo, Settecento, aveva distrutto, condannato, come secoli bui di barbarie, che tra l'altro è un'etichetta che in Medioevo si porta ancora addosso per certi aspetti. Parliamo di giostra, invece nel periodo più moderno dobbiamo parlare di giostre, perché arriva la seconda edizione, addirittura in alcuni anni ce ne sono state di straordinarie. Ce ne sono state tre, sì. Ecco, da storico intanto come legge questa scelta? Io direi che questo riflette lo stato di salute della manifestazione, quando lo stato di salute è buono se ne fanno due, quando è ottimo se ne fanno tre, quando è un po' non è buono si scende a uno. Dal 52-53 alla fine degli anni 70 si corre una giosta sola e tra l'altro si rischia di non correre neanche quella, ha una sua spiegazione nel quadro organizzativo che vedeva l'ENAL, che era un ente governativo e quindi diretto dalla democrazia cristiana, proprietario della manifestazione a tutti gli effetti. E dall'altra parte i partiti politici di sinistra che amministravano il comune e la provincia in contrapposizione. Gli stessi quartieri poi fornavano un terzo polo perché avevano maturato forti sentimenti antipolitici e quindi c'era questa situazione di trasordi, di paralisi. Si è rischiato di avere un momento di buio. Si è rischiato di vedere interruzioni, ci sono state in altre manifestazioni, in altre città interruzioni nel dopoguerra, non a causa della guerra, ma addirittura nel pieno dopoguerra. Un'altra cosa che ha inciso nella storia della giostra retina è stato il forte afflusso di persone venute da fuori della città, quindi estranei alle tradizioni aretine che sono rimaste legate ai paesi di origine. È stato un flusso di decine di migliaia di persone, la popolazione è quasi raddoppiata, quindi lontano dalle tradizioni aretine. C'è voluta una generazione di nativi aretini per apprezzare e valorizzare questo gioco. Però c'è anche questa tripolarità tra Enal, Comune e Provincia, e quartieri, che non a caso finisce quando l'Enal viene sciolto alla fine degli anni 70 e il Comune diventa per legge proprietario della manifestazione titolare. Con l'attuale istituzione giosta del Saracino. L'istituzione del Saracino nasce poi più tardi, c'era un comitato, organizzatore, no, quello segna una contemità rispetto al passato, perché nel 1956 si pensò di fare un ente giostra, sotto l'egida della prefettura, e provvisoriamente fu nominato un comitato che poi è durato per diversi decenni. In questo periodo io direi che la giostra è stata tenuta a galla dall'ente provinciale del turismo, che era estranea a queste logiche e che aveva finalità promozionali, quindi si muoveva al di sopra di questo conflitto latente che c'era, e la banca mutua popolare Aretina, che aveva una finalità di promozione della città a prescindere poi da questa situazione. Perché la politica ci ha provato a fare le sue incursioni in questa manifestazione negli anni. Sì, però io direi qualcosa di più, la politica è sempre stata legata alla giostra. Quando la giostra del 600 serviva al certo dirigente nobiliare come epifania del potere, erano i protagonisti, andavano in piazza, portavano dei servitui, si facevano cuscire e confezionare degli abiti per dimostrare la propria superiorità sociale sugli altri ceti. Quindi anche questa è politica, anche forse meno spicciola. Quando il certo dirigente diventa altro, la giostra cade in mano agli artigiani, agli artieri e puoi immaginare che differenza ci siano i premi da oggetti preziosi, eccetera, si passa a una possata d'argento, a un cucchiaio d'argento, quindi una piccola cosa. Quando non c'è un interesse politico-sociale, insomma istituzionale, la giostra non si fa. Ci fu un episodio nel 1948 rivelatore dello stato delle cose. Nell'anteguerra la giostra aveva risposto agli appelli del partito dominante, il partito fascista, che si identificava con il governo e si identificava addirittura con lo Stato. Quindi ci fu una trasferta a Firenze dei figuranti al Giardino di Boboli in occasione della visita in Italia di Hitler, quindi di Hitler niente meno che una delle nazioni più potenti, in quel momento alleata sciaguratamente, poi viste le conseguenze del nostro paese, ci fu una trasferta a Roma presente Mussolini in occasione della festa della pulizia. Quando il fascismo cade, nel settembre 1948, quindi dopo la prima edizione post-bellica, la giostra viene invitata a Roma in occasione della festa dell'unità. Non una festa dell'unità qualsiasi, importante perché vediva il rientro in pubblico di Togliatti, di Palmiro Togliatti, leader del partito comunista italiano, dopo l'attentato subito dal pallante che rischiò la vita e l'Italia rischiò la guerra civile. Il mondo della giostra si divise profondamente, alcuni quartieri erano favorevoli, altri no, gli organizzatori erano favorevoli, altri erano contrari, quindi ci fu una situazione caotica, non ci fu una risposta unitaria, quel caso doveva essere corsa giostra, la giostra non fu corsa, però questo maturò un forte sentimento antipolitico nei quartieri che cominciarono a scrivere nei loro statuti, che erano organismi antipolitici, quindi una sorta di un muro alzato nei confronti delle istituzioni, in primo luogo del comune della provincia, un muro che è caduto soltanto negli anni 70 direi, e che per conto mio la scomparsa dell'Enal da un lato, la caduta di questo muro, spiega poi il successo che la giostra ha cominciato ad avere da allora, la seconda edizione, la terza edizione annuale, fino ai giorni nostri, per cui i pubblici poteri investano sulla giostra perché rappresenta l'identità retina, un veicolo di promozione, un'unicità della città. Oggi la nostra chiacchierata con Luca Berti, appunto consulente storico dell'istituzione giostra del Saracino, voleva proprio dipingere questa manifestazione nei secoli, perché è una manifestazione che ha i suoi secoli di età. Io ho lasciato detto di dedicare la lancia d'oro di una delle edizioni del 2035 alla prima giostra documentata, sono 500 anni, mezzo millennio, una storia incredibile. Davvero, davvero. Speriamo che, insomma, visto che lei è consulente storico... Beh, io sarò un po' in là con gli anni, quindi chissà, si potrà proporla, farla questa proposta di persona, però l'ho già detto pubblicamente varie volte, quindi spero che i giovani la raccolgano, l'abbiano raccolta. Mi sembra quasi inevitabile, una cosa ineluttabile, però è bene dirla, insomma. 500 anni di giostra, nel 2035, quindi fra poco. Fra pochissimo. Sì, 19 anni. Questi documenti che lei ci ha fatto vedere sono di proprietà, diciamolo magari anche ad onore di cronaca? Questi documenti sono nell'archivio comunale preunitario, che si trova all'archivio di Stato di Arezzo, e molte testimonianze di tipo cronachistico sono tra i manoscritti custoditi presso la biblioteca Città di Arezzo, nella cittadella della cultura, quindi Corso Italia, Via dei Pileati, Via degli Abbergotti, Piazzetta del Commissario. Io faccio un appello, in questo caso, insomma, all'attuale amministrazione affinché, diciamo, questi documenti, sicuramente lo saranno già, vengano digitalizzati, vengono, insomma, conservati in una maniera tale che il tempo non li possa, come dire, non li possa far dimenticare. Ma direi sono già in buone mani. Sì, sì, certo, digitalizzarli, creare un archivio virtuale presso l'istituzione giostra sarebbe un'ottima cosa, anche perché, a mio giudizio, la città non conosce fino in fondo la storia della giostra ad Buratum o del Saracino, che è la stessa identica cosa, fin dalle sue radici medievali o quantomeno dal 1535 in avanti. Ci sono una quarantina di eventi giostreschi documentati, che sono tanti, sono di diverso tipo, di diversa natura, perché un secolo non è uno scherzo, noi pensiamo a quello che eravamo un secolo, la nostra, e quindi poi lo moltiplichiamo per quattro, per cinque, insomma, sono tante generazioni che si sono succedute, ma la giostra trova spiegazione proprio in questo, nel cambiamento che è avvenuto, nella capacità di adattamento ai cambiamenti avvenuti nella società. Dissennati la paragona all'araba finisce che rinasce dalle sue sceneri, e io in un'altra occasione parlai di fiume carsico, che scompare, ricompare, scompare di nuovo. E anche Bennati mi sembra che usa un'immagine di questo genere negli anni 30. Insomma, Carlo Dissennati per noi è stato un grandissimo esempio, insomma, ovviamente, per tutti i giornalisti. E' stato uno che ha tenuto la fiaccola accesa nel momento in cui la giostra era in una situazione veramente deleteria, insomma, rischiava di essere sospesa o scomparire. Scomparire probabilmente no, perché abbiamo visto che è una capacità di recupero anche dopo secoli, di interrompersi con tutte le conseguenze negative del caso. E quindi, insomma, anche la nostra categoria, per quel poco che può fare, secondo me, deve appunto contribuire a fare magari chiacchierate un po' più spesso di questo genere, insomma, e diffondere il più possibile non solo quello che accade nei quartieri oggi, che è giusto anche quello, ma anche quello che, insomma, questa manifestazione ha rappresentato e speriamo rappresenterà ancora per tanti secoli per questa città. Grazie mille a Luca Berti. Grazie di nuovo. Ci ritroviamo, spero, in un'altra occasione, in un'altra bella chiacchierata. Intanto ci ha fatto veramente vivere questo momento magico, facendoci andare indietro nel tempo e arrivando poi ai giorni nostri con la giostra del Saracino. Grazie. Bene.